Cambio della guardia dal prossimo 1 agosto al comando della finanza di Sulmona. Al posto di Luigi Falce, che da febbraio scorso si è insediato alla guida del comando di Avezzano, arriva Rianna Siracusa, che è stata ricevuta questa mattina da sindaco di Sulmona Anna Maria Casini. Siracusa nel 2010 fu il primo allievo ufficiale donna, con origini in provincia di Agrigento, arrolata nella guardia di finanza. Assieme al comandante Falce abbiamo ripercorso le tappe della collaborazione tra il comune e il corpo negli anni del suo comando, ricordando le principali situazioni che ci hanno visto operare insieme, tra cui la risoluzione inerente alla necessità di spostare temporaneamente la caserma storica da piazza Garibaldi all'edificio dei 64 alloggi in zona Pep, in attesa di assegnazione. Un'azione importante che ha consentito la città di non perdere un presidio importante che sarebbe stato trasferito all'Aquila, sottolineato il sindaco Casini. Il passaggio di consegne fra Siracusa e Falce si fa vicino. Il comandante originario di Salerno era arrivato a Sulmona nel luglio del 2014. Tra le inchieste più importanti va ricordata quella riguardante i furbetti del cartellino del comune di Sulmona.